la registrazione in corso. Signore e signori, buonasera. Questa è la seconda puntata dell'edizione 2021 del Tavolo dei Postali. Do immediatamente la parola alla dottoressa Celina Di Marco del Polo Culturale del Ministero per lo Sviluppo Economico che si presenterà e ci farà una tramite la condivisione del suo schermo una breve presentazione del Museo Storico della Comunicazione. Prego dottoressa. Grazie, un caloroso saluto a tutte e a tutti. Io sono Celina Di Marco, vi do il benvenuto a questo secondo appuntamento a nome della mia amministrazione, il Ministero dello Sviluppo Economico. Ringrazio innanzitutto i cari amici Bruno Crevato Selvaggi e Fabio Bonascina che sono i promotori di questa importante iniziativa che ci permette di fare rete nonostante le distanze e ahimè per quanto ci riguarda nonostante la chiusura fisica del nostro Museo Storico della Comunicazione. Condivido lo schermo per mostrarvi qualche immagine della nostra realtà culturale. Ecco, vedete a tutto schermo? Sì. Perfetto. Ecco, questa è la sede centrale del Ministero, si trova in via Veneto 33 a Roma vicino Piazza Barberini. All'interno del Ministero dello Sviluppo Economico c'è appunto il Polo Culturale, un ufficio che è stato istituito nel 2014 per valorizzare, conservare ma anche comunicare, far conoscere al pubblico, valorizzare quindi il ricco patrimonio storico, artistico, scientifico, documentaristico, archivistico di cui è proprietario appunto il Ministero. All'interno del Polo Culturale c'è il Museo Storico della Comunicazione che si trova presso la sede EUR, nella zona dell'EUR, questo è il perché si trova al piano interrato, almeno uno di questo grande isolato, che è condiviso anche con la sede di poste italiane. Il Museo è una storia molto antica, risale al 1878 come primo nucleo, quando l'allora direttore generale dei Telegrafi d'Italia, Ernesto D'Amico, con una circolare, chiese a tutti gli uffici postali di radunare i vecchi apparati, apparecchi telegrafici, in modo che non venissero appunto dismessi, buttati, ma raccolti, proprio con uno scopo insomma di conservazione storica. Nel 1891, qui vi ho riprodotto dal bollettino postale, la circolare, invece appunto a questa prima raccolta di telegrafi si aggiunse una parte, diciamo, dedicata invece alla posta. E appunto con questa circolare l'amministrazione chiede a, non solo ai vari, diciamo, direttori sparsi in Italia, ma anche proprio a tutti i dipendenti postali, di conservare tutti quegli oggetti legati al mondo postale che non avessero più un uso pratico, concreto, ma che potevano appunto avere un valore storico. Oggi questo museo dal 1982 si trova, come vi dicevo, nella sede Euro, molto vasto, si estende per circa 3.500 metri quadri ed è diviso in sezioni che ripercorrono un po' la storia appunto della comunicazione, come l'uomo si è sempre industriato per inventare nuove tecnologie, per comunicare a distanza, quindi per superare i limiti fisici della comunicazione. La prima sezione è quella che ospita i servizi postali. Vedete, abbiamo una ricostruzione di un antico uffizio di posta, così come poteva apparire alla metà del 1800. All'interno ci sono anche dei mobili d'epoca, alcuni del Ducato di Parma e Piacenza. Dottoressa, mi scusi, io adesso disattivo un attimo l'audio per tutti e poi lei riattivi il suo perché c'è molto rumore di fondo. Sì. Mi sentite? Sì, la sentiamo, vado a pure. Ecco, con appunto degli arredi d'epoca, alcuni del Ducato di Parma e Piacenza e Guastalla, altri del Gran Ducato di Firenze. Abbiamo anche una ricostruzione di un fornetto di disinfezione postale, come quelli ad esempio che ci vengono descritti in uso presso lo Stato Pontificio e appunto che servivano per nettare, per disinfettare la corrispondenza durante i periodi di pandemia. Purtroppo un tema adesso è ritornato grandemente d'attualità. Abbiamo anche i relativi timbri, suggelli che venivano poi apposti sulla corrispondenza disinfettata. e abbiamo poi una parte dedicata alla telegrafia, la telefonia, le radiocomunicazioni. Qui vedete una, questo è un radiotrasmettitore del Panfito Elettra di Guglielmo Marconi, poi donato ad annunzio, che lo conservava poi presso la sua residenza sul Lago di Garda, del Vittoriale. Una collezione intitolata L'estetica nella corrispondenza, sono quasi 300 oggetti appartenuti a una collezionista, Gianna Rosa Righetti Mazza, e sono tutti oggetti legati al mondo dello scrivere fra il diciottesimo e il ventesimo secolo, tutti molto raffinati, oggetti anche piccole miniature, insomma molto, anche sfiziose. Abbiamo la parte filatelica, che come chi ci conosce da tempo sa è molto ricca, abbiamo circa un milione di pezzi, tra francobolli, bozzetti, prove di colore, quindi insomma ecco questa è anche la sezione, insieme a quella della marca Ofilia, che si alimentano annualmente con i nuovi ingressi, in particolare per la filatelia, da tutti i francobolli che ci provengono attraverso l'UPO dai vari paesi del mondo. Abbiamo nella collezione due Penny Black, il primo francobollo della storia, nel 1840, tra i gioielli abbiamo i fogli dei primi francobolli del Regno di Sardegna, nel 1851, diciamo teniamo esposti una copia perché gli originali sono in cassaforte e noi stessi possiamo aprire la cassaforte solo insieme alla polizia postale. Abbiamo poi la parte dedicata alla marcofilia, anche essa molto ricca, abbiamo circa 90.000 sugelli, timbri e annulli postali, qui vedete i cavallini di Sardegna. Poi un archivio storico e il fotografico, qui vi ho messo due perle, ad esempio abbiamo l'originale della canzone del Piave, scritta da Ermete Giovanni Gaeta, come il pseudonimo d'arte aveva e a Mario, che era un dipendente postale, scrisse il testo della canzone del Piave mentre era in servizio, come vedete, dalla modulistica. E poi abbiamo una collezione di lettere scritte da Antonio Meucci, l'inventore del telefono, e appunto ci sono state donate da Basilio Catania, che è stato un po' il suo biografo, un ingegnere delle comunicazioni che ha studiato tutta la vita la figura di Antonio Meucci, riuscendo anche a far riconoscere al congresso degli Stati Uniti la paternità della sua invenzione, antecedente a quella di Bell. Il museo ha acquisito anche una collezione di strumenti di peso e misura che si trovavano nell'ufficio centrale metrico, nella zona di Piazza Bologna, in Villa Pirandello, che è lo stesso edificio dove visse il grande scrittore Luigi Pirandello e sono tutti appunto oggetti legati alla metrologia, che è una delle materie che prima nel Ministero dell'Industria e del Commercio artigianato, poi nelle attività produttive e ora nello sviluppo economico comunque appartiene alla nostra amministrazione, anche se ora ha solamente un compitore regolatorio, perché tutta la parte invece di ispezione è stata affidata alle Camere di Commercio. Ecco i gioielli di famiglia, io li chiamo, abbiamo la cabina del Panfido Elettra di Guglielmo Marconi, abbiamo uno dei 40 esemplari dell'Elea 9003, il primo computer a transistor al mondo di produzione della Olivetti, abbiamo una ricca collezione di buche di impostazione, questa è molto bella, che viene dalla Repubblica Veneziana, abbiamo telefoni unici al mondo, come questo appartenuto alla regina Margherita, quindi un pezzo unico realizzato appositamente per lei, in uso nella reggia, che era il Quirinale, in epoca monarchica. Abbiamo una stazione di posta pneumatica, qui c'è il motore con alcune appunto buche per l'impostazione e questa si trovava nell'ufficio postale centrale a Piazza San Silvestro a Roma, e un esemplare della macchina Enigma, la macchina utilizzata dalle forze militari tedesche durante la seconda guerra mondiale che serviva a cifrare e decifrare i messaggi e appunto criptati in modo da non essere scoperti da le forze nemiche. Ci potete seguire attraverso il nostro sito web che attualmente è il restyling, cioè dovrebbe a giorni spero finalmente essere messa online la nuova versione grafica rinnovata, il nostro canale YouTube dove anche carichiamo questi incontri legati al tavolo dei postali e la nostra pagina Facebook. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie dottoressa, se qualcuno ha domande per lei le farà alla fine, così insomma vi sarà il panorama delle domande. Passo, la ringrazio per questa bella, molto piacevole e illustrata presentazione, passo la parola al dottor Fabio Bonacina, presidente dell'Unione Stampa Filaterica Italiana. Prego. Buonasera, grazie di essere qua, grazie al Museo Storico della Comunicazione che almeno idealmente, anche se è chiuso, almeno idealmente ci sta ospitando per questa iniziativa. Iniziativa, il mio compito è quella di illustrarla e lo illustrerò in tutte le puntate in quanto il pubblico talvolta cambia, per cui è giusto che abbia un'idea di quali siano i riferimenti alla base. Tutto nasce due anni fa, anzi nel 2018, come idea di condividere delle esperienze diverse, partendo dal dato di fatto che in Italia ci sono tante realtà pubbliche o private, musei, archivi, piuttosto che associazioni, piuttosto che circoli e altro, che fanno della posta un settore, un vettore d'arte, conservazione, cultura, intrattenimento. Questi sono i quattro filoni che hanno permesso nel 2019 di fare un primo incontro fisico a Prato. L'idea era di rifarlo l'anno scorso, ma poi per gli ovvi motivi pandemici la cosa è stata rinviata, la riprenderemo. Nel frattempo è nata questa collaborazione digitale che coinvolge, come il tavolo dei postali originale, l'Istituto di Studi Stoici Postali Aldo Cecchi Onlus, Unione Stampa Filatelica Italiana e il sito quotidiano di cronaca postale Vaccari News. Questa sera sarà uno dei due interventi più, se vogliamo, filatelici dei sei che abbiamo preparato, in quanto la partenza è un'esperienza particolare, da qui il taglio che poi i relatori daranno ai loro interventi. La collaborazione pubblico e privato, nel senso che c'è stata nel 2015, 2016, poi la presentazione conclusiva è stata fatta nei primi giorni del 17, è stato concretizzato un progetto, appunto dicevo, di collaborazione pubblico privato. In che modo? Al Museo del Risorgimento di Milano c'è una collezione molto molto famosa che era rimasta nel leggendario, oramai perché non si poteva più vedere per vari motivi di sicurezza innanzitutto e per altri motivi, tra l'altro anche la delicatezza del materiale e si favoleggiava su questa collezione. La possibilità che c'è stata data, grazie a dei finanziamenti che arrivano tutti dal mondo filatelico e a questo punto le dico, oltre all'Unione Stampa Filatelica Italiana, ha partecipato l'Associazione Filatelica Nazionale, cioè l'Ex Borsa Filatelica e l'Associazione Filatelisti Italiani Professionisti. Queste due associazioni in realtà ora sono unite come Associazione Nazionale Professionisti Filatelici. In più ci sono stati Associazione Italiana di Storia Postale, Federazione fra le Società Filateliche Italiane, Unione Filatelica Lombarda e la Società Vaccari. Questo ha dato la possibilità di realizzare, di fotografare tutto il materiale, metterlo in ordine, grazie al perito Giacomo Bottacchi, pulirlo, metterlo in ordine, pur mantenendo la linea di come è stato trovato il materiale, cioè non è stata fatta una collezione, non era quello l'obiettivo, ma era quello di rilevare quanto c'era, fotografarlo tutto e metterlo a disposizione del pubblico. Questo è stato fatto grazie a un sito che poi avremo occasione di vedere, diciamo diretto, che fa capo al Comune di Milano, dove tutto il materiale, tutti i 100 erotti, 103 mi pare album, così come sono stati trovati, sono stati fotografati anche nei buchi, anche nelle pagine vuote, perché l'obiettivo era quello di mantenere, di far vedere cosa c'è e per cui ognuno è libero di consultarlo quando e come vuole, in qualsiasi parte del mondo, senza chiedere nulla a nessuno, perché è un sito internet, salvo poi, e qua rispondo in parte perlomeno a una domanda che è già stata fatta da una persona del pubblico, fatto salvo che ovviamente le immagini sul sito sono a bassa definizione per tanti motivi. Si possono richiedere al Comune, al Museo, le immagini ad alta definizione a determinate condizioni, fra l'altro in ogni pagina in basso del sito c'è scritto come fare e il modulo da compilare per fare la richiesta formale. Grazie per l'attenzione, io direi di aver finito e passo la parola a Bruno Gravato Selvaggi. Bene, grazie al Presidente dell'Unione Stampa Filatelica Italiana. Entriamo ora nel vivo di questa presentazione. La dottoressa Ilaria De Palma è il conservatore delle raccolte storiche del Comune di Milano e le passo la parola. Prego, dottoressa. Grazie, buonasera a tutti. Condivido lo schermo. Si vede? Sì, si vede benissimo. Allora, io non parlerò di Franco Bolli perché di quello parlerà Giacomo Bottacchi con cui insieme a Fabio Bonaccina e a molti ospiti di questa sera che saluto e ringrazio ancora per il lavoro fatto. Abbiamo molto lavorato per il progetto di cui comunque parlerò molto brevemente. Volevo solo introdurvi però la figura di Marco De Marchi perché per il Comune di Milano è stata veramente una figura fondamentale non solo per le raccolte storiche ma in particolar modo per le raccolte storiche. Allora, Marco De Marchi lo vedete qui in una foto di Emilio Sommariva sulla destra. Partendo proprio dall'atto di donazione che è stato fatto l'otto febbraio del 1946 da parte di sua moglie Rosa Curioni De Marchi, il Comune di Milano è entrato in possesso di un palazzo bellissimo che si trova in via Borgo Nuomo 23 a Milano, un palazzo che insiste sul complesso degli umiliati, qui siamo dietro la Pinacoteca di Brera, ma che è stato fortemente caratterizzato da Pier Marini in forme neoclassiche che tuttora si possono vedere, ha subito moltissimi bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, era residenza sì della famiglia De Marchi ma già subito dopo la morte di Marco De Marchi il 15 luglio 1936 la vedova facendo proprio leva sull'interesse di De Marchi proprio sugli studi storici, dedica l'intero primo piano terra dove adesso c'è il Museo del Risorgimento a il Museo del Regno Italico, quindi un museo che raccoglieva testimonianze cimeli dell'epoca napoleonica, quasi come se fosse una sorta di anticipazione a quello che sarà dopo la guerra e dopo la ricostruzione, ricostruzione che viene fatta appunto con questa cifra messa a disposizione da Rosa Curioni e che ha previsto lo spostamento dal Castello Sforzesco a Palazzo Morigia del Museo del Risorgimento e alla diciamo limitazione della degli appartamenti in cui viveva Rosa De Marchi in una porzione che tuttora è usufruita da privati all'interno dello stesso palazzo ma quello che diciamo ha permesso la donazione di Rosa De Marchi in onore di suo marito è stato proprio quello di dare una nuova stede al Museo del Risorgimento che con le ricostruzioni posbelliche anche del Castello non trovava proprio più luogo all'interno del piano di rinnovamento dei musei di Costantino Baroni e dei BPR. Qui vedete appunto la facciata su via Borgonovo 23 del palazzo e in basso a destra la statua di Giannino Castiglioni che retrai appunto Marco De Marchi con l'immancabile libro in mano e che è stata donata anch'essa insieme al palazzo sempre in questo atto donazione del febbraio 46. Qui a sinistra trovate Rosa Curioni insieme all'avvocato Diego Martello grande amico di famiglia che sarà quello che seguirà in tutti gli atti di donazione in tutti gli istituti fondati dopo la morte di De Marchi che Rosa fortemente volle e che fece proprio in onore per rinnovare la memoria del marito. Sempre in questo stato di donazione compare anche la ricca collezione di gioielli. Anch'io come la collega parlo dei gioielli di famiglia questi sono in effetti eh i gioielli della famiglia in particolar modo nelle memorie che vengono scritte da Lino Vaccare il 5 dicembre del 36 eh memoria di Marco De Marchi si ricorda proprio il suo piacere durante i viaggi ma anche durante le sue passeggiate milanesi di acquistare eh gioielli adesso vedremo anche molto importanti per per la sua signora. Questi gioielli sono conservati chiaramente sempre in cassaforte presso il Museo del Risorgimento e sono forse la parte che meno si conosce di questa importante eh donazione ma che ultimamente è stata sono stati molto spesso chiesti in prestito per mostre importanti come questo eh con la questa collana doppia fila di perline con elementi in platino e diamanti e pendenti in diamanti eh nella parte bassa che è della eh bottega di Ravasco. Ravasco è uno dei più grandi gioiellieri eh tra otto e novecento ehm presenti appunto sulla piazza milanese sempre di Ravasco sono anche queste due splendide spille. La prima è è una barretta in platino diamanti e perle databili databili 1925 e 30 così come negli stessi anni sempre in questo stile deco abbiamo questa bellissima spilla cestino in oro giallo con eh pietre preziose perline diamanti e perle compaiono spesso in questa collezione perché è particolarmente eh amate da rosa curioni ehm vi volevo mostrare quest'altra ehm eh spilla eh sempre in in questo caso è una spilla orologio ehm ha eh in oro giallo e smalto e foglie in argente diamanti a cavallo tra otto e novecento perché insieme al cestino di prima hanno fatto parte di una erano tra i pezzi più importanti di una mostra che si è tenuta a Palazzo Morando che si chiamava gioielli di gusto mentre gli altri oggetti che abbiamo visto così come questa eh spilla in ehm diamanti giada e eh barrette di calcedonio eh sono stati esposti recentemente alla mostra ehm sulla gioielleria eh milanese del ventesimo secolo al pol di Pezzoli. Altri due qua mh c'è mh all'interno della collezione c'è anche una ricchissima eh collezione di pendenti qui abbiamo un pendente in argento, rogiallo, diamanti e zaffiro al centro mentre a destra un pendente in platino, oro, giallo e diamanti. Questo o quest'ultimo datato negli anni venti del novecento mentre il primo è sempre a cavallo tra otto e nove. Eh altri oggetti molto frequenti e molto ben documentati sono gli spilloni da cappello. Questi sono dei bellissimi esempi eh in stile Liberty con smalti e turchesi. Ma veniamo alla mh all'oggetto eh che forse più interessa eh il pubblico cioè questa eh l'idea di mettere online la ehm collezione di Franco Bulli. Allora come conservatore sono arrivata nel duemila e quindici è stata uno dei primi progetti eh a cui ho partecipato forse mh uno dei più importanti tuttora perché ha visto proprio la sinergia di diverse eh forze. Eh la prima è stata proprio la grande forza di volontà eh dell'USFI e del suo presidente evidentemente che ehm ha fatto comprendere a una storica dell'arte proprio l'importanza di questa eh collezione e l'importanza che fosse visibile a tutti. Una collezione qui parlo dal punto di vista del conservatore. Una collezione del genere è difficile renderla fruibile al pubblico perché presupporrebbe una cosa che in effetti eh Marco De Marchi avrebbe voluto è quella proprio di avere un centro studi filatelico dedicato interamente alla valorizzazione di questa collezione e in cui accogliere tutti gli studiosi e ce ne sono veramente tanti anche appassionati di filatelia che fanno richiesta di vista diretta. Allora si tratta di materiali molto preziosi e molto eh fragili. Per cui arrivando ad un compromesso che però mi sembra molto opportuno in termini di valorizzazione ehm abbiamo noi come comune di Milano messa a disposizione questa eh piattaforma dove è raccolta tutto è raccolto tutto quello che viene digitalizzato di materiale grafico disegni e stampa del comune di Milano. Qui vedete appunto l'home page di grafiche in comune eh nella sezione quella centrale piattaforma in comune la terza occorrenza sulla eh partire da sinistra è proprio la collezione filatelica Marco De Marchi. Quindi si presenta molti di voi la conosceranno così così come mh sono arrivati a noi questi volumi è possibile appunto sfogliarli con questa freccia e dopodiché questo vabbè ho aperto ho fatto uno screenshot dal dal fondo preziosi dove si possono vedere e sfogliare tutte le pagine e qualora si fosse interessati ad uno in particolare o a quelli che eh il perito Bottacchi ha ritenuto particolarmente eh importanti sono stati ehm sono state fatte delle macro fotografie che eh tipo questa dove si può ingrandire fino a una buonissima definizione per vederlo come se fosse dal vivo però con una lente ehm eh finisco di ehm aggiungo una cosa eh rispetto alla domanda che è stata fatta sì per scopo di studio attraverso quel modulo che si trova in comune si possono chiedere le immagini e le immagini sono fornite ovviamente se per scopo di studio o per finalità proprio eh di eh rivista scientifica eh in maniera assolutamente gratuita e arrivano in alta eh risoluzione attraverso quella campagna che è stata appunto finanziata dai soggetti chiamati da da USPI ehm la ehm raccolta la raccolta dei mh dei francobolli di Marco De Marchi viene donata al comune di Milano nel 1936 c'è questo ehm foglietto eh che manoscritto all'interno del nostro archivio eh di Marco De Marchi io ne ho una copia appesa in ufficio insieme alla foto di di Emilio Semmariva che vi ho fatto vedere prima dove ehm Marco De Marchi scrive proprio un foglio suo manoscritto del 12 luglio 1934 che dona questa collezione con il titolo di il risorgimento italiano nel francobollo collezione storico documentaria dei francobolli d'Italia la mostra questa con questo titolo viene poi fatta al castello sforzesco nel 1937 e sempre al castello dove allora c'era l'uso del risorgimento nel 1939 viene aperto il centro studi filatelici Marco De Marchi e noi abbiamo voluto chiamare questo progetto proprio così centro studi filatelici Marco De Marchi eh la il fondo prezioso in particolare che sono quelli più ehm eh appunto più noti più preziosi sono stati presentati poi anche esposti a Milano Film nel 2016 sempre grazie alla collaborazione con l'Unsfi solo ehm un accenno a un altro ente del comune di Milano che ha avuto un per cui Marco De Marchi ha avuto un grandissimo ehm una grandissima importanza questa è una eh la facciata del museo di storia naturale ricordiamo che nel 1938 l'istituzione si arricchisce dei volumi di argomento naturalistico molti dei quali di notevole valore appartenuti a Marco De Marchi eppure da ehm per volere di De Marchi viene eh depositata nel 1913 poi acquisita dal museo la ehm ricchissima biblioteca ornitologica dell'industriale Ercole Turati ehm altri due ehm edifici qui ehm siamo al Villa Monastero a Varenna che era la casa di della famiglia De Marchi tra l'altro dove è morto Marco De Marchi è stata donata alla ehm municipalità e poi diventata della proprietà della provincia di Lecco adesso è una casa museo un centro congressi e ha un ricchissimo giardino botanico mentre non dimentichiamoci che comunque Marco De Marchi è stato un grandissimo naturalista anche se lui dopo si è dovuto dedicare agli affari di famiglia a Buenos Aires all'industria farmaceutica però ehm i suoi studi tuttora molto importanti hanno ehm nonché la donazione di questo edificio ha portato alla eh creazione dell'Istituto Italiano di Idrobiologia a Pallanza. Grazie mille. Bene dottoressa la ringrazio per questa esaustiva anche affascinante presentazione di questo grande industriale scienziato filantropo collezionista Marco De Marchi e per concludere la eh presentazione di questa collezione ora condividerò il mio schermo e vi farò vedere un filmato sulla collezione che dura un minuto e quarantotto secondi. Un filmato che poi potete prendere da YouTube. Marco De Marchi è stato pilatrista d'accordo ma è stato anche un industriale è stato un assenziato è stato un benefattore. Non a caso il comune di Milano gli ha dedicato una via che è in primo centro della città. La volontà di rendere pubblico il patrimonio filatelico De Marchi nasce proprio da una parte un'esigenza di valorizzazione dall'altra quella di tutela. La sua passione si sviluppò inizialmente collezionando i francobolli degli antichi stati italiani, del Regno d'Italia e delle colonie italiane. E' certo che pensare che quando lui ha iniziato a raccogliere aveva tutto il mondo tutto il mondo filatelico a disposizione. Bene, vi ringrazio. No, scusate che lo elimino. Abbiamo interrotto la condivisione, avete gustato il filmato e ora cedo la parola al perito Giacomo Bottacchi che illustrerà dal punto di vista filatelico le gemme della collezione De Marchi. Prego, può condividere lo schermo. Innanzitutto, buongiorno e benvenuti, anzi buonasera e benvenuti a tutti. Io ho avuto il piacere per ben due volte di poter vedere questa raccolta nel corso degli anni una prima volta con un noto professionista filatelico Agostino Zanetti e grazie anche all'epoca all'interessamento di Danilo Bogoni, ex presidente dell'Unione Stampa Filatelica, ho potuto classificare una prima volta semplicemente a livello di censimento e grazie invece alla nuova iniziativa si è finalmente potuto rendere pubblico questo lascito di grande importanza e della quale questa sera ho semplicemente estrapolato alcuni pezzi, niente di magari di particolarmente così tecnico, ma per così, per far vedere alcuni aspetti di quello che è la filatelia al di là della semplice raccolta dei francobolli. Tenendo presente che Marco De Marchi è stato veramente una persona di una apertura e uno sguardo al futuro notevole, nel senso che collezionava non solo il francobollo ma anche il documento postale. Quindi diciamo che possiamo partire da tutto quello che era la sua passione principale. Lui da Lombardo, in realtà lui era un Lombardo ma era di origine svizzera, in quanto il papà era appunto della zona del Luganese e però si era trasferito in Argentina in quanto era un industriale del settore chimico. Il nostro invece ha sempre avuto una grande passione per tutto ciò che erano le cose di Lombardia, in particolare la sua passione era il regno Lombardo-Veneto. Io ho fatto delle foto e in questa presentazione si possono vedere, ammirare direi, i fogli come erano delle collezioni di una volta. La cosa che colpisce innanzitutto, questa è una parte pre-filatelica che ha sviluppato in particolar modo appunto per il regno Lombardo-Veneto, la nitidezza e la leggibilità degli annulli. Una volta si curava sì e no questo aspetto, mentre il De Marchi era molto attento. Qui troviamo, vediamo per esempio un'impronta particolarmente rara di Bormio, il negativo di Bormio e si vede che è ben leggibile, mentre queste impronte sono difficilmente decifrabili normalmente. Abbiamo poi, oltre chiaramente, poi la parte principale della raccolta e quella relativa ai francobolli. Per quanto riguarda i francobolli, lui ha sin da allora dedicato sia spazio al francobollo nuovo, che diciamo che era forse il più collezionato al tempo, ma ha anche dato spazio alle lettere, alle affrancature, che sono qualche cosa che una volta non si considerava molto. In realtà nella sua collezione appaiono delle cose di grande pregio e anche i francobolli singoli, come potete vedere in questa fotografia, sono francobolli di grande qualità, con bordi di foglio, angoli di foglio, tutte cose veramente antisegnane come gusto. Naturalmente era stato consigliato da, avendo come Baccari aveva sottolineato nella sua presentazione, aveva il mondo filaterico a disposizione a quei tempi, quindi poteva scegliere delle cose molto importanti. In questo caso vediamo, per esempio, una lettera che ha una francatura già di per sé particolarmente rara come combinazione dei due francobolli e con questo giallo limone, che è una tonalità di colore estremamente rara in questi primi francobolli, che normalmente erano arancio, questo colore, come si vede anche dalle fotografie, è quasi un colore oliva. Sono cose particolarmente, diciamo così, conosciute dai tecnici, ma magari non tanto dal grande pubblico. Abbiamo poi un'altra particolarità, e direi che forse è la caratteristica principale della collezione De Marchi, il grandissimo e profondo studio sugli annulli. in particolare quelli di Lombardia, ma anche di tutti gli altri, molti altri, non tutti, ma molti altri settori degli antichi stati e anche del primo periodo del Regno d'Italia, che praticamente dimostra anche qui l'interesse alla novità, perché i francobolli che colleziona, la vedremo più avanti, fanno parte anche dell'epoca proprio in cui Marco De Marchi è vissuto. Quindi praticamente era un collezionista di novità dell'epoca, che oggi hanno oramai cent'anni e più, ma all'epoca erano novità. Qui abbiamo una cosa di grande rarità, un insieme di grande rarità, che sono questi timbri muti. Perché si chiamano muti? Semplicemente perché, come si può vedere, i primi tre esemplari, voi potete vedere che hanno scritto sopra Mantua, Pavia e Chiavenna. Se non fosse stata fatta una classificazione, un cessimento, quindi uno studio su questi tipo di timbri, sono muti perché chiaramente non ti dicono a che località appartengono. Normalmente venivano, come si può notare nelle altre, nelle due lettere, nella parte destra della pagina e nei due frammenti, inferiormente, accompagnati dal timbro cosiddetto nominativo. Questa tipologia di timbri, che è stata, diciamo così, ereditata un po' dall'Austria, che era molto ricca di questi tipi di timbri, ritengo che fosse stata usata in maniera un po' sperimentale in Lombardia e in Veneto, perché solo alcune località ne erano dotati. E mano a mano, tutti questi timbri sono naturalmente del dicembre, gennaio, febbraio del 1850-51. Poi sono un po' stati, diciamo così, eliminati perché la doppia stampigliatura complicava le operazioni di timbratura della lettera e quindi rallentava molto le operazioni. Qui abbiamo, segue una seconda parte di timbri muti, che sono veramente, cioè qui ce ne abbiamo visti tanti, ma sono delle grandissime rarità a tutti, ad eccezione di Venezia e Verona, che sono molto comuni. Tutti gli altri timbri muti che abbiamo visto sono delle vere e proprie gemme. Anche nella pagina successiva, vediamo, nella sezione di destra di questa pagina, vediamo un grande gusto nella scelta della francatura. Normalmente questi francoboli venivano, questi timbri venivano impressi su valori da 15 centesimi che rappresentavano il costo del trasporto di una lettera normale del Regno Lombardo-Veneto. Il De Marchi cercava questi timbri già allora su affrancature differenti dal normale 15 centesimi, riservando, diciamo, la presenza nella propria raccolta del francobolo da 15 centesimi, solo su francoboli per annulli di grande rarità, come per esempio l'annullo di Belgioioso, che possiamo vedere al centro di questa fotografia, è un francobolo sciolto, ma oltre al presente sono conosciute solo due lettere, per cui sono oggetti veramente di grande pregio. Altra cosa, sempre ritornando alla lungimiranza, era il fatto di raccogliere le grandi affrancature. Qui abbiamo un esempio che per me è eclatante per quanto riguarda il pezzo di destra, che rappresenta la più grande affrancatura multipla del cosiddetto giallo e nero. Il giallo e il nero erano i colori dell'impero austriaco e quindi ha una grande importanza patriottica per quanto riguarda l'Austria, questo tipo di affrancatura. altra cosa di grandissimo impatto, anche se poco conosciuti, sono l'utilizzo dei francoboli fiscali. I francoboli fiscali furono usati in alcune località, ma non troppo frequentemente e qualsiasi francobolo al di là del quindici o trenta centesimi rappresenta delle grandi rarità. Tanto per darvi un'idea, il blocco di salò che possiamo vedere nella parte superiore della pagina sulla destra è l'unico multiplo esistente in blocco di qualsiasi emissione di queste marche da bollo in eh utilizzo postale. Ehm era era praticamente un uso diciamo così tollerato ma eh non essendo in vendita presso gli uffici postali eh queste marche da bollo venivano probabilmente eh acquistate presso i tribunali, presso le preture eh per altri scopi e poi utilizzate postalmente. Ehm ci sono appunto eh le due lettere per esempio eh al centro, entrambe al centro di ognuna delle due pagine, sono lettere affrancate con i valori da settantacinque centesimi e sono entrambe delle grandissime rarità. Eh un'altra eh curiosità ehm che era l'impiego dei timbri sui eh battelli. Eh i piroscafi eh in servizio sia sul lago Maggiore che sul lago di Como che sul lago di eh Garda avevano eh in utilizzo dei timbri postali e eh in particolare eh il Garda serviva sia la sponda austriaca che la sponda eh Veneta e e Lombarda e questo eh francobollo eh la lettera diciamo nella parte inferiore è affrancata con un francobollo austriaco ehm vedete il valore da tre Kreuzzer eh che corrispendeva corrispondevano ai quindici centesimi del regno Lombardo-Veneto. La lettera in questo caso è stata impostata a peschiera quindi località eh Lombardo-Veneta avrebbe potuto utilizzare il francobollo da quindici centesimi e hanno utilizzato il francobollo da tre Kreuzzer e eh ogni eh i piroscafi avevano alcuni di essi non tutti a bordo un ufficio postale che aveva questi timbri particolari e in questo caso eh significava imperial reggi vapore. un'altra mh un'altra diciamo eh caratteristica vi faccio vedere una una curiosità eh perché nell'ottocento ehm le signore le le dame eh spedivano mh spesso e volentieri utilizzavano della corrispondenza particolare nel senso che la mh le buste mh con cui inviavano i loro scritti erano buste decorate eh sulla destra potete vedere rappresentata nella pagina di sinistra un particolare ingrandito di questa busta spedita da Pavia per Castiglione delle Stiviere a Mantua e mh la busta eh è sormontata da altri due eh frammenti mh come si vede nella parte di sinistra per cui non è appare non completa pur essendolo e e De Marchi l'aveva eh inclusa nella propria raccolta perché eh gli interessava evidentemente l'annullamento di Pavia eh di tipo riquadrato su quel tipo di francobollo eh è una una cosa abbastanza mh inconsueta le lettere eh femminili ci sono di vari tipi in questo caso è appunto con una rilievografia ehm un decoro rilievo della busta stessa altrimenti esistono anche che sono bellissime alcune decorate a mano e sono dei piccoli capolavori e e vedo che la dottoressa Di Marco eh annuisce al Museo del Risorgimento nella ehm collezione di donna Mazza eh Gianna Reghetti Mazza ehm ci sono diverse di queste lettere che sono veramente meravigliose. Eh qui è un'altra pagina e ehm il Marco De Marchi non era solo collezionista di Lombardo Veneto ma eh di riflesso amava anche i francobolli austriaci. Qui abbiamo una serie di eh timbri eh su esemplari d'Austria eh per quanto riguarda la parte di sinistra eh tutto uno studio dei timbri mh delle dei piroscafi sia dal Levante che dall'Istria e dalla Dalmazia mentre nella parte di destra abbiamo delle eh dei timbri del Tirolo italiano eh tra i quali alcuni eh importanti ferroviari una cosa che mi era sconosciuta finché non ho avuto la fortuna di accedere a questa collezione era il il ferroviario di Ala che già all'epoca comunque era eh su su Franco Bolli in Croizer lo possiamo vedere a metà della pagina esatto a metà della pagina destra questo timbro eh lo stesso eh probabilmente non so se fosse il De Marchi o il Grione che era uno dei curatori di questa raccolta aveva scritto inedito eh finché non questa collezione non è venuta la luce grazie appunto ai promotori di questa iniziativa non erano cose che non non erano note un'altra mh ecco qui sulla sinistra potete vedere un'altra cosa molto divertente eh esiste in Sicilia Italia dovete sapere che eh con l'unità d'Italia dal primo gennaio del mille ottocentosessantatré la tarifazione eh che in alcuni eh in alcune regioni ex stati diciamo era di dieci centesimi ed in altre di venti è stata poi unificata eh a quindici centesimi ehm ma eh sfortunatamente nei primi giorni i tagli da da cinque centesimi non erano disponibili e malgrado non fossero ammessi all'uso perché ehm potevano prestarsi a delle frodi eh esistono dei francobolli dei rari casi di francobolli usati per frazione eh spaccafurno eh è un una località dove eh è noto più di un frazionamento eh quello di di De Marchi è particolarmente bello di grande qualità e ed è uno delle delle gioielli che ci ha lasciato eh un'altra cosa anche molto bella è la la francatura eh diciamo della parte inferiore eh che sarà eh senz'altro eh apprezzata dagli specialisti che eh raccolgono assicurate con valore dichiarato in questo caso Benevento eh ha eh su una francatura che comprendente il raro valore francobollo da ottanta centesimi d'entellato una francatura che si chiama tricolore in gergo in quanto appunto ha tre francobolli di colori differenti e in questo caso è molto pregiata perché è una francatura unica come combinazione ehm altra eh diciamo così qui torniamo al discorso che avevo fatto in precedenza per quanto riguarda l'attualità della collezione di Marco De Marchi. Marco De Marchi eh che ha vissuto eh tra metà seconda e metà dell'ottocento e eh la prima parte del novecento ha raccolto i timbri delle collettorie cioè di quei piccoli ehm micro uffici autorizzati a raccogliere corrispondenza che avevano dei timbri particolari e praticamente sono dei francobolli di poco precedenti a a quando fosse quando lui fosse bambino e qui ho fatto semplicemente un esempio con due pagine con vari tipi eh di questi timbri eh dove spicca in particolare eh la busta in alto a sinistra questo annullo di Castiadas che eh è veramente una una cosa di una rarità estrema pur essendo su un francobollo eh ordinario assolutamente comune ma eh dà una una valenza importante alla alla valorizzazione di quell'oggetto. E qui eh un'ultima curiosità questa non fa parte della collezione di De Marchi ma è una curiosità eh i francobolli sono sempre quelli che avete visto del delle serie di Umberto ehm più o meno coevidi De Marchi e in effetti questa lettera parte da Pallanza e molto probabilmente anzi certamente da quelli che oggi sono eh all'istituto idrobiologico eh di Pallanza e vanno alla signora Adelina De Marchi a Buenos Aires dove la famiglia eh De Marchi aveva la le proprie industrie chimiche. La signora Adelina De Marchi per la cronaca è la sorella di Marco De Marchi. È una una lettera che è saltata fuori per caso ma ho ritenuto divertente farvela vedere come riferimento alla alla vita di questa importante famiglia di cui eh a cui noi tutti siamo altamente integrati. Vi ringrazio spero di non essermi dilungato e di non essere stato noioso. Grazie. Bene molte grazie a Giacomo Bottacchi che ci ha illustrato alcune solo alcune delle tantissime gemme filateliche della collezione Marco De Marchi e ora dopo questa abbiamo concluso la serie delle presentazioni e possiamo dare inizio alle domande. Ce ne sono già alcune in chat. Alla prima è stato già risposto cioè come ottenere le scansioni in alta definizione. Vi leggo la seconda che è divisa in due parti quindi faccio la prima domanda che è per la dottoressa De Palma e la domanda è in previsione qualche ulteriore attività divulgativa e di valorizzazione di questa collezione dopo la sua messa in internet e l'esposizione a Milano Phil? Allora in questo momento eh non c'è in programma nulla ma nel senso che eh non escludo eh di poter realizzare prima o poi una cosa che molto mi piacerebbe c'è la uno spazio all'interno del museo dedicato proprio alla a sfogliare questi album eh magari in maniera virtuale eh sempre assolutamente. L'unica cosa che in questo momento mi frena è che si tratta comunque sempre di dispositivi che hanno bisogno poi di una un'enorme eh manutenzione. Dispositivi che ad esempio in un caso come questo della pandemia poi avrebbe reso impossibile l'utilizzo perché eh significava appunto cioè abbiamo dovuto comunque eh limitare tutto quello che poteva essere condiviso, toccato da più persone quindi ehm non escludo che prima o poi si possa ehm fare qualcosa di più di quello che si sia fatto sulla collezione di Franco Bolli eh per una questione anche di ehm se volete di di parità mi piacerebbe anche dar conto della collezione di gioielli. Certo bene grazie. La seconda domanda era eh qui mi sento di rispondere direttamente lei mi conforterà se rispondo giusto eh eh sono in previsione ampliamenti e nuove acquisizioni per questa collezione credo che la risposta sia no perché si tratta della collezione di Marco De Marchi però può darsi che voi abbiate in previsione acquisizioni di altro materiale di carattere postale filatelico. Prego. Sì non si allora non si tratta di incrementare evidentemente la collezione Marco De Marchi qualora capitasse eh la possibilità di incrementare la collezione di Franco Bolli perché no assolutamente però la collezione di Marco De Marchi rimane un nucleo un fondo archivistico poi alla fine un unicum e unico deve rimanere. Bene grazie. Un'altra domanda è una richiesta per la dottoressa Di Marco che eh un autente vorrebbe rivedere la slide della sua presentazione dove ci sono i tre telefoni quindi io le chiederei di condividere il suo schermo e di ripresentarci la presentazione con quei tre telefoni. Ricordo che comunque si potrà vedere poi su YouTube l'intera presentazione però eh e quindi anche loro ma nel frattempo possiamo rivedere quindi ecco ha iniziato la condivisione dello schermo. Allora ehm diciamo qui si vede quello della Regina Margherita e poi probabilmente alludeva a quest'altro che è appunto uno dei classi ne abbiamo vari modelli di questi vari esemplari sono telefoni dello Stato con lo stemma Sabaudo però non non credo di avere un'altra diapositiva con altri telefoni. Non so se ho risposto. Comunque eh anche questi mh questi apparecchi si possono e molti altri si possono trovare sul nostro sito andando sul sito del polo culturale mise.gov.it comunque basta mettere su Google polo culturale del mese si va all'interno del del sottosito quello dedicato al museo si trovano molti foto di apparecchi telefonici poi se l'utente insomma è interessato a qualcosa in particolare possiamo anche inviare foto anche noi gratuitamente. Il credo che allora chi aveva fatto questa domanda in chat ha scritto è questo ne ho uno identico quindi credo che lo abbiamo soddisfatto e ci fa piacere per lui per la sua per la sua proprietà. Vi è un'altra osservazione in chat lo deboli lavori che dovrebbero essere incentivati dai ministeri competenti illuminati specialmente nel favorire con bonus fiscali elevati dedicati a lasciti e donazioni cartacei artistici documentali postali che ne dite illustri relatori bene mi sento di rispondere per tutti che non possiamo non essere d'accordo che favorire lasciti a istituzioni pubbliche sia una insomma ecco una cosa estremamente incomiabile i bonus fiscali potrebbero senz'altro essere un incentivo questo non compete a noi compete a una più ampio panorama di politica culturale fiscale e che attualmente però a quanto mi risulta in corso il ministero per i beni e le attività culturali per la cultura come si chiama oggi sta favorendo senz'altro delle iniziative di questo genere. Bene se qualcuno ha altre domande può farle direttamente attivando il proprio microfono oppure se preferisce lo scrive in chat prego se non vi sono domande ne ho una io intanto per la dottoressa di marco il computer elea il primo computer a transistor della Olivetti quasi un portatile a vedere l'immagine di che anno è? Eh sì allora diciamo che nel 1954 iniziarono un po gli studi no? Adriano Olivetti aveva visto lungo capendo che l'elettronica sarebbe stato il futuro quindi aveva messo su questo laboratorio di ricerca con a capo Mario Chu un ingegnere italo cinese che poi era stato un cervello in fune degli Stati Uniti e che lui aveva fatto tornare in Italia proprio per metterla per metterla a capo di questa questo team di ricerca e sviluppo e poi appunto diciamo che questa di questo prototipo ne vennero poi fabbricati prodotti effettivamente solo 40 esemplari e e quindi quello che abbiamo noi è uno dei 40 diciamo è una parte poi perché in realtà è una struttura ancora più grande insomma che corrisponde come estensione a quella di un campo da tennis quindi sì diciamo che non c'è paragone diciamo con gli strumenti che oggi ci portiamo in tasca insomma no? Però ecco per l'epoca era sicuramente una grande innovazione perché eh almeno per un breve tempo ci aveva fatto sorpassare anche gli stessi americani in questo settore no? Che ancora producevano computer a valvole eh purtroppo poi la morte improvvisa di Adriano Olivetti e subito dopo seguita da quella di Mario Ciù in un incidente stradale pose fine a questo grande sogno italiano di essere leader eh nel settore del dell'elettronica eh perché purtroppo poi il nuovo consiglio d'amministrazione giudicò eh questo settore diciamo non non strategico per l'impresa e non non vedevano effettivamente una possibilità di grande profitto futuro in questo settore e eh riportarono l'olivetti direttamente alla produzione meccanica quella delle macchine da scrivere e quindi anche eh diciamo brevetti d'idea eccetera vennero poi vendute alla generale Electrics. Grazie. Posso fare un intervento? Prego. Prego. Eh per la dottoressa Di Marco allora io sono eh uno dei pochi programmatori dell'Elea che ha lavorato sull'Elea dell'agito mineraria nel 1961 e ho ancora la documentazione della macchina non so se possa interessare al museo questa documentazione. Sì come no certo noi sì abbiamo alcuni manuali che insomma siamo riusciti un po' a recuperare anche da internet però insomma se lei ha documentazione di prima mano molto volentieri. Ho la documentazione ufficiale tanto del 6001 che del 9002 quindi a quel punto sono ecco sono disponibile perché siccome io apprezzo molto quello che voi fate al museo di comunicazioni e e quindi senz'altro mi farebbe piacere appunto donarvi questo materiale. Ottimo grazie. Grazie. Prego. Grazie a voi. Dottor Cametti posso chiedere in che città lei abita? Io sono qui a Roma. Ho lavorato all'agito minerario in quegli anni ma sono di Roma. E allora io direi che Roma su Roma la cosa è fatta. Noi ce ne rallegriamo in maniera particolare e invitiamo i due protagonisti di questa donazione a avvertirci quando avverrà per darne giusta notizia nei nostri canali postali informativi insomma e per mostrare anche come da queste sinergie possono nascere insomma queste queste belle queste belle novità. No? Grazie. Sì 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 no ma anche perché appunto loro ex dipendenti olivetti sono veramente i testimoni preziosi di quello che è stato insomma anche quel periodo no? Per esempio anche il Monte Paschi di Siena ha donato il suo modello di L.E. 9003 ad una scuola, un istituto tecnico, l'Enrico Fermi di Bibbiena in provincia d'Arezzo e sono stati proprio gli ormai pensionati ex dipendenti olivetti anche a rimetterci le mani insomma e quindi anche in parte funziona la loro, la nostra no, la loro è in parte funzionante grazie proprio al contributo di questi ex dipendenti. Benissimo. Altre domande? Io tornerei un secondo sulla De Marchi per dire che c'era, comunemente la chiamiamo collezione De Marchi ed è la collezione effettuata da Marco De Marchi e poi donata al Comune. in realtà nello stesso gruppo e anche questa fotografata è presente nel stesso sito c'è anche una strana collezione che risale a una decina d'anni dopo, anzi sì, una decina d'anni dopo della sua morte e quella è una mostra fatta all'Aringario di Milano, quindi in Piazza Duomo, intitolata Il Franco Bollo e la guerra, fatta nel 46. Il materiale è stato scoperto per caso perché se ne ha persa completamente la memoria, salvo l'esistenza di un numero unico fatto molto bene all'epoca che racconta le motivazioni di questa mostra e tutto il materiale che venne esposto, venne esposto era una raccolta molto eterogenea presentata da collezionisti o commercianti che riguardava gli ultimi anni di guerra del 43 in poi con Franco Bolli della Repubblica Sociale, con Franco Bolli e lettere ovviamente della successive della luogotenenza, dei primissimi momenti della Repubblica e soprattutto dei cosiddetti, i Franco Bolli dei cosiddetti Comitati di Liberazione Nazionale che indipendentemente dal loro interesse filatelico, e qua ci sarebbe tutto un capitolo da aprire ma non lo voglio aprire, ebbero una grandissima testimonianza, rappresentavano e rappresentano una grandissima testimonianza storica. Ecco, questo materiale, quello che i proprietari che sposero all'Arengario e poi decisero di donarlo, finì per qualche motivo nella stessa collezione, a fianco diciamo della collezione di Marco De Marchi e venne ritrovato durante appunto nel 2016, durante il lavoro di riordino del materiale e venne ospitata, mentre nel 2016, grazie a poste italiane, durante il Salone del Franco Bollo Milano Fil, venne esposta alla selezione dei fondi preziosi della De Marchi, nel 2017 venne esposta questa parte di questa collezione, quanto è rimasto di questa collezione, di questa mostra, che aveva anche questa un importante, un significativo significato, qualcosa di storico da ricordare. Grazie. Bene, molte grazie. Ha alzato la mano Valeria Baccari. Prego. Grazie. A parte i complimenti per le bellissime e interessantissime esposizioni, volevo fare una domanda alla dottoressa De Palma, se è possibile. Dopo la manifestazione, la presentazione della collezione De Marchi, il lavoro monumentale fatto sul sito, eccetera, se sono aumentate le visite al museo per la De Marchi, le richieste e anche se ha dei dati aggiornati su le visite al sito, quante persone hanno consultato la collezione De Marchi online, eccetera. Però se sono dati che non ha adesso, fa lo stesso, magari ce li dirà poi un'altra volta. Allora, io ho l'accesso a grafiche in comune, non è possibile farlo allo specifica sezione, però devo dire che il continuo incremento di quello che noi abbiamo online, chiaramente, poi vabbè, soprattutto poi in questo anno, comunque aumenta esponenzialmente gli utenti di grafiche in comune. Quello che però io sono riuscita a fotografare è la richiesta di riproduzioni, cioè sono aumentate, cioè sono iniziate direi, perché non ne avevo mai avute prima del progetto. In particolar modo, quando abbiamo presentato questo lavoro online sicuramente, avevamo fatto una conferenza stampa, ma poi molta visibilità, anche perché era un target di addetti ai lavori con Milano Fil. Da lì devo dire che le richieste di riproduzione fotografiche, ma anche semplicemente per studio, molti sono stati anche pubblicati, perché noi abbiamo man mano anche incrementato la nostra biblioteca di argomento filatelico, perché poi chiediamo una copia quando noi diamo l'immagine. Quelle sono aumentate molto, devo dire, ma non ho un precedente perché prima non ce n'erano, quindi è... Vabbè, vabbè, però è già un obiettivo raggiunto, insomma. Assolutamente sì, no, per noi è una cosa importantissima, per me è un obiettivo raggiunto di cui sono molto contenta. Io credo che sia importantissimo per tutto il mondo filatelico e quindi continuare anche a parlarne, grazie a questi incontri virtuali, comunque è positivo. Certamente. Grazie. Avrei una domanda per Giacomo Bottacchi. Ci ha fatto vedere alcune gemme del Lombardo Veneto e del Regno d'Italia. Come sono rappresentati nella collezione dei marchi gli altri antichi stati italiani in cui era divisa la penisola e che hanno emesso Franco Bolli, cioè Toscana, Modena, Modena, Parma, le Romagne in governo provvisorio, lo Stato Pontificio, Napoli, Sicilia. Sì, di tutti, devo dire, di tutti c'è un capitolo specifico e non a livello del Regno Lombardo-Veneto che evidentemente era la collezione del cuore del nostro, ma di tutti gli stati ci sono delle ampie rappresentanze con oggetti molto molto interessanti e molto rari. Evidentemente sia chi lo consigliava e sia lui come uomo di grande cultura aveva saputo scegliere sin da allora degli oggetti non standard ma delle cose particolari. Se mi è permesso, io volevo far rivedere un attimo una pagina che era anche stata chiesta da un signore prima, non so se la vedete, forse sì. Sì, sì. Riuscite a vederla, ecco, benissimo. Prima mi è saltata nell'esposizione, in realtà l'avevo fotografata per far vedere il Franco Bollo, diciamo così, uno dei Franco Bolli top d'Italia e uno dei Franco Bolli più conosciuti al mondo, cioè il Tre Lire del Gran Ducato di Toscana, delle missioni del governo provvisorio, che pur essendo in Toscana già aveva lo stemma Sabaudo, perché appunto la Toscana era stata, diciamo così, non ancora annessa ma liberata e quindi in fase di governo provvisorio. Questa è una tipica esposizione del Franco Bollo tipo, come lui la interpretava, i vari Franco Bolli che raccoglieva, ma poi per gli annullamenti di ogni singolo Stato, a parte il fatto di esserci per ogni Stato una cosa del genere generalistica, per ogni singolo Stato c'è una specializzazione degli annulli ed è, devo dire, di grandissima raffinatezza, perché ci sono degli oggetti veramente introvabili e quindi esorto anche gli amanti di questo nostro bellissimo hobby ad andare a sfogliare nelle giornate uggiose queste belle pagine che oltretutto hanno questo sapore di antico che raramente ormai si trova nelle collezioni. Oggi chi è professionista incontra collezioni montate a computer, montate in maniera moderna. Qui si utilizzava ancora il fatto di poter mettere la lettera una sopra l'altra con delle vecchie linguelle e interessava far vedere il timbro. Quindi ci riporta indietro un modo di collezionare che non c'è più, che però è divertente e quindi vale la pena andare a vedere tutti questi esemplari dei vari ducati italiani. Bene, molte grazie. Vi sono altre domande? Allora, io se non vi sono altre domande, chiederei al Presidente dell'Unione Stampa Filatelica Italiana di dirci qual è il prossimo appuntamento. Prego. Bene, l'appuntamento è sempre tra il 18 e il 19 circa, per lunedì prossimo, il 26 aprile, dove cambieremo ancora una volta il settore. Avremo come riferimento l'arte postale, oppure detta in inglese mail art, perché l'idea fondamentale nasce negli anni 50 negli Stati Uniti, anche se, se tengo a sottolinearlo, in Italia abbiamo degli esempi, Giacomo Balla, giusto per citarne uno di 20-30 anni prima, che utilizzavano le lettere, le adornavano, le dipingevano, disegnavano, mettevano delle vignette e spedivano ovviamente, ed era un modo per loro per comunicare in maniera diversa, per farsi conoscere, per segnalare la loro specializzazione, la loro bravura in un determinato modo, e poi negli anni, appunto negli anni 50, viene ripreso con delle tipologie un po' diverse, con degli obiettivi un po' diversi, che ci verranno spiegati da Ruggero Maggi, che è un mail artista, cioè uno che fa, una persona che adesso fa arte postale, e da Sandro Bongiani, che ha una galleria virtuale italiana d'arte contemporanea, è un sito che ospita mostre, e spesso e volentieri dedica questi spazi virtuali, ma fruibili senza nessun problema, proprio all'arte postale. Quindi vi invito a ritornare su questo tavolo, davanti a questo tavolo virtuale, digitale, per lunedì prossimo. Grazie ancora dell'attenzione e buona serata. Grazie. Termina con ciò la seconda giornata del Tavolo dei Postali. Ricordo a tutti che da domani dopo domani potrete rivederlo su YouTube, nel canale USFI e del Polo Culturale del Ministero per lo Sviluppo Economico. Ricordo infine che per la settimana prossima il link è il medesimo di oggi, quindi ricorrente. Ringrazio tutti per la partecipazione, vi saluto e vi do un cordiale arrivederci a lunedì prossimo. Buonasera. Grazie a tutti, buonasera. Grazie a tutti.